Le consegno questa piccola cosa. Grazie. Alle prove lui mi indicò il monitor video e mi disse le parole sono lì e io dissi no Greg le parole sono qui perché l'avevo imparato in tenera età e quindi il brano non potevo averlo dimenticato. Grazie. Prima in The Coach of the Crimson King e dopo Lucky Man. Ok? Grazie. Applausi. 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 Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti